Si intitola The Last Lamentation e dell'opera video dell'artista interdisciplinare Valentina Medda che sarà proiettata a mercoledì 29 maggio alle 19 negli spazi di Palazzo Fizzarotti di Bari nell'ambito del BIG, Bari International Gender Festival, in collaborazione con Fondazione Art. Un progetto a cura di Maria Paola Zedda, realizzato grazie al sostegno di Italian Council, programma di promozione internazionale dell'arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, prodotto e promosso da Zed Art Research. Dopo la proiezione seguirà un talk ad ingresso libero condotto da Maya Marinelli, direttrice della Fondazione Art. The Last Lamentation è un rituale funebre per il Mediterraneo, concepito dall'artista come luogo di attesa, sospensione e trapasso, incarnazione di un'assenza, deposito di cadaveri e cadaveri in sé. L'opera racconta la tragedia del mare attraverso un'ipnotica partitura vocale e coreografica che rielabora i codici rituali in forme contemporanee e astratte. La potente presenza di 12 donne piangenti, vestite di nero e in piedi accanto al mare, rende per contrasto più tangibile l'assenza dei morti e fa esplodere le loro voci silenziose. L'opera video è un racconto astratto, come racconta la curatrice Maria Paola Zedda, dove la relazione tra corpo, patos, paesaggio si stratifica per sistemi di assenza e presenza. Il lavoro sembra guardare registri diversi che recuperano la suspense, lo straniamento e la lentezza, che non è maniera ma tensione drammaturgica, corrente e immaginifica che lascia parlare il dettaglio e ripercorre il venire alla luce di un'assenza e della coralità del rito.